Ancora poche informazioni, un uomo di 25 anni è stato accoltellato intorno a mezzogiorno nel milanese in un bar di via dei Pini a Pieve Emanuele. Lo hanno soccorso i sanitari del 118, è stato portato con l'elisoccorso al Niguarda di Milano, indagano i carabinieri. Grazie per l'attenzione e un buon pomeriggio.